Buongiorno a tutti, sono Elisa e oggi vi dimostrerò una mia lezione tipo, buona visione e grazie mille, mirsiamo con una piccola corsetta sul posto per scaldarci un attimo e inizio e rilasso le braccia, sposto il peso, testa sinistra ora col braccio destro inizio, col sinistro vai, uno respiro le spalle, tengo l'addome contratto luo su veneto, il corpo respiro e otto sette respiro sei cinque quattro tre due uno sposto le braccia avanti non viene a retta non mi fermo mai, le gambe non si fermano mai sposto le braccia avanti otto sette sei cinque quattro zero due uno e rilasso e rilasso ascoltare la musica apro le braccia e su giù le spalle respiro respiro e otto sette sei cinque quattro tre due uno uno e rilasso respiro ora braccia 90 gradi approfitto respiro uno gomi ti viene a 90 gradi le spalle apro il petto e otto sette sei cinque quattro quattro tre due uno e lascio le braccia aperte e su incrocio respiro sempre a domi teso uno otto e otto sette sei sei cinque quattro tre due due uno e rilasso ora sempre il peso sposto però alzo la gamba respiro pugni e piego respiro respirate sempre l'addome non si lascia mai respiro pazzo otto un po' e 1, e rilasso, torno, e torno, inspiro, ora, corro ginocchio ben alte per 8 secondi, e vai, 8, 7, 6, 5, respiro, 4, 3, 2, 1, e mi fermo, inspiro, e torno, e ancora, inspiro, e torno, e va, ancora 1, e torno, ora, alzo le braccia, e apro e chiudo con le mani, sposto i piedi, posizione parallela, giro le spalle, apro e chiudo per sentire la circolazione, e 8, 7, 6, 5, respiro, 4, 3, 2, 1, e sciolgo, ora, vado sul tappetino, da qua, troppo, e scendo a terra, rilasso un attimo a schiena, e un attimo a schiena, e comincia a fare, la gamba adesso si alza, il rato sinistro si alza, e facciamo 10, 1, 2, l'addome è sempre contratto, e ora, spiro, il rato, e grazie, 1, 2, l'addome è come la destinata voce troppo, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 cm, e torno da qua, nel giro e iniziamo gli terminali facciamo 8 crani con le mani e 8 con le gambe alla alta grada sempre in stile e in stile quando fanno e vai, uno mani dietro le orecchie e tiro su gambe, 90 gradi mi raccomando e ritorno agli ultimi 8, respiro e l'ultimo, e abbraccio ginocchia e rilasso un attimo e torno, ora apro braccia, calmi verso su da qua alzo il bacino, inizia con le ginocchia e le spalle e torno ne facciamo 16 e vai, uno prendo bene i glutei collo rilassato e l'ultimo e rilasso un attimo e vai, bicicletta un attimo l'addome l'addome è sempre contratto e non narco la schiena spalle e collo rilassato respiro e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e allungo gambe e braccia e stiro lungo ne approfitto e l'ultimo esercizio per gli abdominali vado sui vischi e allungo gambe e schiena e rilasso e rilasso e rilasso e l'attimo verso il pezzo e rilasso e rilasso e da qua allungo e tiro un po' di più e torno e per la sinistra e allungo e solle un attimo e solle un attimo e facciamo 8 respiro tengo sempre l'addome contratto questo è per gli adduttori 5 6 7 8 la stessa gamba si incrocia ora lavora quella sotto forte faccio dei piccoli balzi per sentire gli addominali sempre inspiro ed espiro piede bene il plesso faccio faccio i piccoli balzi devono bruciare gli adduttori esisto e 8 7 6 5 4 3 2 1 e torno rilasso la piego le ginocchia contendo la sopra apro e sento il giuto e facciamo 16 mi raccomando non schiancate l'addome è sempre teso eh 2 3 3 5 e vai l'ultimo due e l'ultimo esercizio gambe tesi piego la gamba sopra e la spingo come se spingersi qualcosa e facciamo 8 e l'ultimo esercizio e l'ultimo esercizio e rilasso valditi la schiena e scelto un attimo e l'ultimo esercizio e l'ultimo esercizio e l'ultimo esercizio e l'ultimo esercizio Quindi cominciamo, uno, due, respiro, e sempre questo, piego, e piccoli bounce, piede bene flesso anche da questa parte, addone teso, inspiro e despiro. E otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e rilasso, piego ginocchio, alzo su gamba, non spiancare, sento lavorare il gruppo. E l'ultimo, allungo gambe, e piego e spingo, facciamone otto, l'ultimo exercice sul fianco. E l'ultimo, due, e ora mi giro a pancia in giù, facciamo l'infinito exercice, il primo è pancia giù, allungo le braccia, Bambi e piego, quindi sono tassi, nuoto, ricordo in una colazione, stringo benvenuti da un uomo di braccia, faccio il lavoro a tutto. Mi spiro e despiro. L'acqua è morta secondo. E' un attimo, ora, mani sotto la fronte, atti con le gambe, faccio il lavoro nei gruppi. o uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e rilasso, schiena lungo e allungo la schiena. Facciamo gli ultimi exercici e poi facciamo lo stretching, piego di notte, poi facciamo due pressioni per le braccia, facciamo otto, uno, due, tengo la zona. Vai, l'ultima. E rilasso l'acqua. E' ferma, l'ultima. Vado in plank. E sto un minuto. Mi raccomando, adesso spiro i talloni, addome, fermissimo. Facciamo tutti gli avanti bracci. Ora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e lungo. E lungo la schiena. Nel punti la schiena. E lungo la schiena. E lungo la schiena. Ora passiamo all'estretto. Inoltre piegate, inspiro, allungo il scollo. E cambio lato. Respiro. Mi raccomando la schiena dritta. E torno, allungo. Da qua mi allungo e allungo la schiena avanti. Mi troppo, allungo le gambe. E respiro. E allungo. E torno, indurci l'amba destra e allungo. E cambio. Allungo bene. E torno. Posa spallina, allungo ancora verso avanti. Lato le spalle e il colo. Vieni a torno e chiuso le ginocchia. E vado su. Attendo le gambe. Vado sulla gamba destra, prendo la schiena dritta e allungo un attimo. E cambio. E cambio. E cambio. Vieni a torno e in centro. Piego. Vieni a torno e la colonna. Ci sono tre respiri. Uno. E sciolgo. E respiro. E lascio. E l'ultimo. E lascio. Grazie mille. 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 Grazie mille.